Si è conclusa ieri con le tappe di Boiano e Isernia, la due giorni in Molise di Luigi Di Maio, l'incontro con la gente ma anche tanti monologhi e lo suggera i giornalisti, questo il leitmotiv della visita del leader del Movimento 5 Stelle. Qui il vostro candidato alla presidenza ha avuto in famiglia uno zio camorrista, secondo i vostri standard è un impresentabile. Si è aperta così, con una domanda scomoda, la visita di Di Maio a Boiano. Nel secondo giorno del suo tour elettorale in Molise, il leader del Movimento 5 Stelle ha ignorato i giornalisti, non rispondendo a quella, come a tutte le altre domande, che gli inviati delle truppe delle televisioni, anche nazionali, hanno provato a rivolgergli. Poco dopo le 15.30 il leader dei 5 Stelle è arrivato a Palazzo Colagrosso per incontrare una rappresentanza di imprenditori del settore turistico, ma anche attivisti e simpatizzanti. Insieme a Di Maio i vertici regionali del Movimento, con il neosenatore pentastellato Luigi Di Marzio ed il summenzionato candidato alla presidenza della regione, Andrea Greco. Puntare seriamente sul turismo come formidabile risorsa del Molise, tema questo legato a doppio filo con l'efficientamento delle infrastrutture viarie, ma anche la questione della pesante disoccupazione che costringe tanti giovani ad abbandonare la propria terra. La necessità di una maggiore vicinanza dello Stato al cittadino attraverso la semplificazione della macchina burocratica. Sono i principali temi trattati da Di Maio in quella sede. L'incontro è durato circa un'ora. All'uscita la solita concitazione e l'altrettanto solito canovaccio con Di Maio a salutare, ma attento a schivare ogni domanda. Ecco Presidente, vogliamo mandare i delugani. In merito all'oggi del candidato, perché tu rispondete alle domande? Perché non ti rilascio dichiarazioni? Sono domande scomode, per caso. Il tour del leader nazionale si è concluso in serata di Sernia, in una piazza Andrea di Sernia abbastanza piena, ma non gremita. Di Maio dal palco ha attribuito il mancato pienone al timore di esporsi che animerebbe tanti molisani. Dopo l'intervento di Greco, una vera e propria requisitoria all'indirizzo della classe politica tutta, hanno distrutto il Molise. Ha ringato la gente dal palco, il candidato presidente, la conclusione di Di Maio, incentrata prevalentemente sui temi della politica nazionale. Non andremo al governo per tirare a campare, ma per cambiare tutto, ha rimarcato. E, a proposito delle alleanze, non ho intenzione di fare le grandi ammucchiate. L'ultima stoccata a Berlusconi. Dopo 24 anni di politica, bene farebbe a farsi da parte e a far partire il cambiamento.